ora andiamo a resia le nostre orme dice se ci sono andate quelle due fave quelle due fave e mezzo perché noi ci sa anche il cane ok 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 qui ci piglia anche qui cirebbero stare i bicicletti i pedoni insomma di gente una volta una volta io ho capito sì sì l'indicazione diceva quello quello che hanno è una cosa pavolosa va bene è una cosa pavolosa 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 è un giorno è un giorno st Grazie a tutti. 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 Yeah. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. No. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. No. Two. 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 500 originali. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Yeah. 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 Ora andiamo su di qua, andiamo alla Gisa. Mi sembra un'area di sotto. Guardate la signora, vedi? C'è la pista. Si tirarono la strada. 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 i gruppi qui avranno detto cazzo se arrivano progetti ma noi andiamo adesso al punto di partenza è quello della strada che va a fare la 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 strada che va a fare